come verifico che una sequenza parta davvero questa domanda è stata già fatta e ho risposto già ma mi rendo conto che è veramente frustrante perché non c'è un modo chiaro anche se poi realmente è molto semplice ma non c'è scritto da nessuna parte allora lo diciamo noi per verificare che una sequenza si attiva o meno dei rischi divertire la tua sequenza magari con una mail differente da quella che usi con cartra e nel momento in cui ti scrivi alla tua sequenza con una tua email devi aspettare l'email e capire qual è il comportamento che ti viene richiesto se non ricevi nessuna mail vuol dire che qualcosa non funziona se i tempi sono lunghi tra una mail e l'altra la soluzione quale potrebbe essere potrebbe essere quella di duplicare la sequenza oppure di modificare i tempi tra di attesa tra un invio e il seguente lasciando magari un minimo di un'ora tra una sequenza e la seguente il seguente passo spero di risposta alla domanda faccio un piccolo una piccola aggiunta mi è capitato di parlare recentemente con una persona in consulenza e lei mi diceva ma io perché la mia sequenza non è partita lei aveva questa persona aveva creato una sequenza che doveva partire quando le persone erano dentro una lista dice io ho 500 persone nella mia lista ma nessuno ha ricevuto la sequenza nessuno ha ricevuto la mail di partire la mail iniziale della sequenza perché il problema è che le persone erano all'interno della lista prima che lei creasse questa sequenza mentre il trigger il grilletto che fa partire una sequenza è quando avviene un'azione per cui se tu vuoi che le persone che sono in una lista ricevano la sequenza dovrai andare su te lo mostro perché secondo me è una cosa fondamentale devi andare su my communication e selezionare ad esempio tutte le persone che fanno parte di una lista quindi advanced select tutti quelli che sono all'interno della lista mettiamo carta iscritti anzi stefano benvenuti e non mi veniva questo cercavo tutte le persone che sono stefano benvenuti li mando direttamente a questi allora io dico ti seleziono e faccio action subscribe to sequence e questo caso seleziono la sequenza ma non è il fatto di essere già dentro la lista che fa partire la sequenza è solo quando io attivo una funzione a meno che qualcuno non si iscriva dopo che la sequenza è creata dentro la lista cioè se la condizione è prima della creazione della lista non può la sequenza partire se la condizione viene verificata dopo che la sequenza geniti già esiste allora la condizione è verificata spero deve essere stato chiaro se è chiaro fama se non è chiaro fatemelo sapere e lasciami un commento almeno così posso spiegare ciò che non è chiaro grazie a tutti